Grazie, allora oggi siamo qua per fare le solite chiacchiere, ma prima parliamo di OddTV Parliamo di OddTV, poi parleremo un po' Mi sono fatto una scaletta, poi vediamo se rispettarla o non rispettarla Tanto non abbiamo nessuno che ci frusta per dirci che cosa dobbiamo fare Ditemi se si sente bene, fatemi sapere se è tutto ok E il programma è questo, parliamo un po' di OddTV, per chi non lo conosce e per chi lo conosce Poi parleremo un po' di argomenti generici Ho il capellino storto, così non lo so, è la webcam che mi fa sembrare tutto storto Oggi niente occhiali da soli perché sennò come cazzo vedo la roba che c'è sul sito Tra l'altro è tutto scuro, come è giusto che sia un sito di film horror Parleremo di Social Dilemma, serie TV, omologazione del gusto È un argomento che mi sono inventato io, che mi interessa Parleremo di The Trekking Dead War Beyond, che è lo spin-off In realtà non si chiama Trekking, ma Walking Dead Io lo chiamo Trekking e poi vi spiego perché Spazzatura del nuovo millennio, la chiamo io perché è un prodotto veramente infimo Parliamo un po' di The Bay e Faust, che è un film di Brian Yuzza molto particolare E poi parliamo di The Human Sentipede Trilogy C'è un'edizione molto figa che mi ha mandato, diciamo non direttamente Tom Six Ma io dico così però perché è la società proprio Six Entertainment che mi ha mandato la trilogia Steelbook Dopo ve la faccio vedere E poi vi spiego sul finale, sempre se mi ricorderò perché come sapete l'età avanza Sul finale vi parlerò di Nergaz, ma come me l'ho chiuso a che vedere con non aprite questo blog Quindi mi sembra giusto parlarne Ciao Dani, Iron Fist, grande, pugno di ferro Pugno di ferro, oggi proprio mi sento tutto storto Sarà l'inquadratura, come mi devo inquadrare? Comunque Comunque, comunque, comunque Non mi avete detto si sente bene Veniamo alla piattaforma Ottivi Vi voglio parlare assolutamente di questa piattaforma Soprattutto in considerazione di tematiche che poi affronteremo dopo Legate a Netflix e Prime Che sono due piattaforme molto interessanti Su questo non c'è dubbio Ma sono anche piattaforme con grandissimi problemi Grazie Dani che mi hai dato questo feedback Sono due piattaforme che hanno grandissimi problemi Sia a livello sociale che a livello di contenuti artistici Diciamo che chi le usa entrambe già si è reso conto Di una grande differenza tra Prime e Netflix Esiste una realtà che si chiama Odd TV The House Cioè l'articolo non c'è in realtà Si chiama House of Disaster Abbreviato Odd TV Più comodo direi Ed è una piattaforma di fruizione di film Cortometraggi in streaming Tutta italiana Tra l'altro vi voglio far vedere la novità della casa Ho piazzato le VHS là in alto Vabbè non si vedono Speravo si vedessero Ma non le ho messe là per farvele vedere Le ho messe là perché non ho più spazio Quindi lo buttate sopra questo muretto che ho nella stanza Peccato che non si vedano Così insomma Sono tutti film horror ovviamente VHS Odd TV è una È una piattaforma streaming tutta italiana Che abbiamo conosciuto all'inizio dell'anno Di cui infatti abbiamo fatto un articolo Su Non Aprete Cristo Vlog Ed è tutta di film horror e film thriller Diciamo che chi ama il genere horror Al 90% ama anche il thriller O comunque lo apprezza Anche perché poi spesso questi due generi Si contaminano E si intrecciano Sempre 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 di più Adesso io sono curioso di vedere se Muovendomi nella pagina web Succede qualcosa Giusto così per curiosità Si ok Succede qualcosa ma Ah ecco guarda Succede qualcosa ma io devo mettere Questa schermata Sotto la chat Perché se no non si vede la vostra chat Io l'ho messa sopra la chat Come viene viene ragazzi Perché bisogna anche vedere L'interfaccia di Odd TV Così capiamo come è fatto Torniamo in un page Odd TV che è una piattaforma Che costa ragazzi Cioè è una cosa pazzesca Costa 2,99€ al mese 2€ lo ripeto 2,99€ al mese Cioè Senza contare il fatto Che è una Piattaforma che come tutte Ha un periodo di prova Di 30 giorni Quindi dove non pagate nulla Avete solo diciamo La scocciatura Che dura veramente 5 minuti Di mettere la carta di credito Nel momento in cui vogliate restare abbonati Una volta che avete inserito i vostri dati per il pagamento Cosa che già fate Per 300.000 altre situazioni Sicuramente meno interessanti di Odd TV Avete 30 giorni per provarlo Secondo me Per il costo che ha Veramente Sareste dei pazzi A non usarlo Io intanto in chat Vi copio Il link per l'iscrizione Ve lo metto qua Questo è il link Affiliato di non apriete questo blog Ragazzi Io non è che divento ricco Se vi iscrivete Però ho fatto una filiazione Perché questo rende tutto molto più Più facile La diffusione insomma Di questa piattaforma Se volete iscrivervi Trovate il link anche sotto questo video Che sarà caricato anche su Youtube Su Facebook Eccetera eccetera Stiamo parlando di Di cifre veramente Irrisorie Sono meno di Meno di 3 caffè Meno di 3 caffè al mese Per avere Una serie di film Che ora vi farò vedere Che non solo sono Abbastanza Adesso non vi so dire effettivamente Quanti sono Però Sono anche molto particolari Se volete farmi delle domande Su TV Fatemele in diretta Così non ci dimentichiamo niente Quando sono arrivato La prima volta su TV Ho fatto un giro E La cosa che mi ha colpito Tantissimo È che ho trovato cortometraggi O mediometraggi Soprattutto ci sono Mediometraggi O film interi Comunque indipendenti Ho trovato tantissimi film E corti di persone Che conosco Perché le ho conosciute Grande Dani Sono abbonato a OTV Da maggio Ed è una figata pazzesca E infatti È una grandissima figata Intanto mi spoglio E mi ero messo La giacca Scusate Perché la felpa Era un po' difficile Da togliere Perché effettivamente Oggi c'è una specie Di mezza bufera E quindi avevo freddo OTV è una grandissima figata E ora vediamo perché Questi personaggi Che io ho conosciuto Persone che ho conosciuto Che sono i registi indipendenti Li ho trovati su OTV E questa cosa Mi ha entusiasmato tantissimo Vi faccio degli esempi Su OTV Trovate Goodman Di Daniele Zinelli Che è un regista Indipendente Che sta crescendo tantissimo Trovate Divina Mortis Che è un film di Josh Heisenberg Molto figo Che io ho anche Recensito in parte Perché Da qualche parte L'ho recensito Credo Spero Se no Ho detto una cavolata Comunque l'ho visto Ed è un film Veramente notevole Trovate anche La web serie Scusate Non è una web serie Ho detto una cazzata È una Una serie Che si chiama Herber Western Animator Di Ivan Zuccon Non è una web serie Scusate È un film a puntate Comunque Una specie di mini serie Chiaramente ispirata A Lovecraft Che è molto figa E non solo Perché poi Nell'arco del tempo Ho avuto la possibilità Di trovare altri film Come Stack Intrappolati nell'oscurità Di L.S.D. Bernardi Che è un altro regista Che ho conosciuto Quindi Entrare in OTV È come entrare Nel magico mondo Indipendente Del cinema horror E questa cosa Mi ha veramente Fatto un piacere Incredibile Perché Ha dato la possibilità A tantissime persone Che fanno cose Di valore Di avere uno spazio Dove essere viste Che non è YouTube Dove tu pubblichi Il tuo Film Magari anche Gratuito Però Come ci va La gente Sul tuo film Qua Questa è una vetrina Una vetrina Incredibile Perché più cresce Più diventa una vetrina Quindi in futuro Se voi I vostri amici Qualcuno Che conoscete Che è un regista Di talento Vuole Far vedere il suo film A persone Che sono adatte A vedere il suo film Quindi che hanno Quell'indole Quei gusti Può andare su OTV E questa è una Cosa Pazzesca Cioè È la prima volta Che io vedo Una piattaforma Di streaming Interamente Nata e votata Al cinema Indipendente Poi qua mi fermo Perché poi Adesso OTV Chiaramente sta facendo Un'evoluzione Anche verso il cinema Mainstream Ma ci arriviamo Ma Stiamo parlando Di Grandi chicchie From Midnight Factory La fabbrica di mezzanotte Quindi Qualcosa che Molti conoscono Intanto Io provo Adesso provo A fare un giro Dentro Vediamo se succede No Ecco Si rimpicciolisce La finestra Mannaggia Questi mezzi Orrendi Vi faccio vedere Un po' come La 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 piattaforma È molto Tra virgolette Simile a Netflix Prime Ma secondo me È semplificata E ha sicuramente Molte meno Mh Meccanismi Algoritmi Super Insomma Malati Che vogliono Proporvi Le cose Un po' A cazzo A parte che Per un amante dell'horror Entrare qua È come entrare A Gardaland Per un Bambino Intanto Vabbè Hanno fatto bene A mettervi davanti Perché La prima Il primo grande passo Che hanno fatto Secondo me Spero Di dire la cosa giusta È Una partner Con Coach Medium In Night Factory Quindi abbiamo Devil Pass Il passo del diavolo Pet Che è un film Anche Il passo del diavolo E Pet Sono due film Molto belli VHS Quello fan footage Insomma Lo conoscete It's It's The Sand Red Che è Com'è che si chiama In italiano Non mi ricordo Il titolo in italiano È un film stupendo Su Praticamente Adesso Intorno c'è tutta una storia Ma Nel succo Ci sarà questa tizia Che deve scappare Da uno zombie E sono solo Lei e lui Ma il problema Di fuggire da questo zombie È che si trova nel deserto Quindi Fondamentalmente È molto difficile Sfuggirgli Perché non ci sono ostacoli Non c'è niente Lo zombie Imperterrito La rincorre Poi ci sarà un fattore Determinante Che farà in modo Che lui la riesca Sempre a trovare Lo scoprirete Dentro del film Il film è Bellissimo Secondo me È veramente un film di genere Per eccellenza Trovate La Petite Mort 2 Dementia Che devo ancora vedere Che è un film sempre di Coach Media Coach Media è la casa Insomma La casa madre Di Midnight Factory Vatican Tapes Lady Rout Che è stupendo Veramente un film indipendente Con i contro Cazzi Se posso usare Questo termine Un po' Volgare Wax Lo devo ancora vedere Sempre di Coach Media E poi sono arrivati Di recente Dei film Che sono Per esempio Charlie Seis Che abbiamo recensito Perché sono stato All'anteprima stampa Qualche tempo fa Che è il film Su Charles Manson Ragazzi Cioè E ho appena iniziato Appena iniziato Perché Perché in realtà Poi Oltre a aver fatto Questa fantastica partner L'intera piattaforma È piena zeppa Sia di film horror Indipendenti italiani Ma È piena zeppa Anche di film horror Indipendenti Di tutto il mondo Francesi Inglesi Tedeschi Americani Di qualsiasi Veramente Di qualsiasi Nazione Perché Alla fine Questa è Che io sappia La prima realtà Che si comporta In questa maniera Che è così Verticale Sull'horror E sul thriller Cioè io Vi invito a guardare Le Le schermatine Insomma Le anteprime Dei film Che qua Tra l'altro Giustamente hanno La forma Di una locandina E io questa cosa L'apprezzo tantissimo Probabilmente È anche dovuto A una questione Di comodità In questo modo Non bisogna editare Ogni volta Delle immagini Ma secondo me È anche molto più in linea Con il gusto Di chi Insomma Segue il cinema Cioè Perché vedere la locandina È il top Scusate se I vostri commenti In sovrapposizione Si vedono un po' così Ma non ho avuto tempo Di fare la grafica Con lo sfondino Eccetera Quindi accontentatevi Tanto poi dopo Quando parleremo d'altro Passeremo A Tra l'altro qua Non si vede esattamente Tutta la schermata Perché Perché Devo imparare un po' A usare questo Questo programma Che è Stream L'abs OBS Che mi permette Di andare In streaming Adesso già si vede Adesso la Scusate Intanto la metto Ok La metto un po' più Ok Comunque Andate su un film Trovate Veramente Una grafica Ultra semplice Ho avuto modo Di parlare con i creatori Con chi lo sviluppa E L'intento È sempre quello Di fare una Dare un'esperienza Utente Molto semplice Molto easy Più avanti Verranno fatte Delle migliorie Fantastiche Di cui non vi svelo nulla Perché Non è giusto Perché è giusto Che ve le svelino loro E Mi sento abbastanza orgoglioso Del fatto Che sono in contatto Con loro E ci scambiamo Tanti feedback Perché A me interessa Mi interessano Le sorti Di questa piattaforma Non per una questione Di interesse Personale Economica Ma perché Comunque È veramente Una realtà Incredibile Che Sicuramente Fa bene A tutta Il genere horror A tutta La community horror Quindi Tra l'altro Dark Skies Mi sono fermato Proprio su questo film Qua L'ho appena Appena Visionato Aspettate un attimo Che provo A riempicciolire La chat Giusto per Per questa sessione Qua Dark Skies L'ho appena Visionato Perché ho Il 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 Non Non Ho C'è Non Ho fatto In tempo A Vederlo Direttamente Su Ottv Ma È un film Veramente Notevole Nonostante Abbia Qualche Piccolo Difetto Nel senso Che Comunque Ci sono Delle cose Che non Sono Tanto Scusatevi Faccio Vedere Che Perché Qua c'è Un pezzo Di Grafic Qua Trovate Trama Info Trailer E Il Pulsante Per Condividere Il Film È Un Film Veramente Che Tratta Il Tema Degli Alieni In Modo Molto Insomma Torna Ti Torna Anche Se Ha Veramente Qualche Difetto Un Po Trash Però Alla Fine Il Film È Piacevole Davvero Sono Impressionato A Vedere Che Perché Fino a Poco Tempo Fa C'erano Solo Film Indipendenti Comunque Fighissimi Vi Faccio Un Esempio Qua In Alto Potete Vedere Resort Paraiso Ragazzi Questo È Un Thriller Che Chiamarlo Thriller E Basta È Un Neofemismo Perché Ci Sono Delle Scene Gore Abbastanza Forti Quindi Io Lo Definirei Praticamente Un Thriller Horror A Tutti Gli Effetti È Stupendo Cioè Questo Film È Stupendo Stupendo E Non Ne Parla Nessuno È Un Po' Il Fascino Di Questa Piattaforma Il Fatto Che Qua Verrete Troverete Un Sacco Di Roba Che Solo Voi Potrete Conoscere Solo Voi E Che Ci Ci Sono Qua Su TV Ma Semplicemente Perché Io Come Fan Dello Horror Occupandomi Di Cinema Ciao De Guercio Stiamo Parlando Di OTV La Piattaforma Di Streaming Horror Thriller Esclusiva Horror Thriller Tutta Italiana Creata Da Italiani Una Roba Pazzesca Sto Spiegando Un Po' Come Funziona E Cetera Dicevo Io Non Riesco Tanto A Vedere Tutto Perché Col Fatto Che Devo Recensire I Film Che Mi Mandano Proprio Non Che Compro Perché Se Dovessi Recensire Anche Quelli Che Compro Non Potrei Fare Nient'altro Nella Vita Però Siccome Devo Recensire Molte Cose Che Mi Mandano Ho Difficoltà Poi A Occupare Il Mio Tempo Anche Per Vedere Altri Horror Quindi Faccio Fatica Però Cercherò Sempre Di Un Utente Diciamo Un fan Dell'horror Che Divora Film A profusione Diciamo Anche Un giovane Che Magari Non deve Lavorare Deve Solo Andare A scuola E quindi Ha i pomeriggi Le serate Non deve Alzarsi Non deve Fare Non ha Figli Non ha Tutta Una serie Di Impegni Questa È Veramente Un Un'opportunità Incredibile Stiamo Parlando Di 3 Euro Al Mese Per Avere Tutta Sta Roba Che Tra L'altro Si Sta Anche Ampliando Con Altre Con Altre Novità Che Vengono Da Cochimini Di Amid Night Factory E Poi Appunto Adesso Sta Arrivando Anche Charlie 6 Un Altro Film Di Non Ricordo Il Titolo Dunque Stanno Arrivando Filme Un Po' Più Mainstream Quindi Avrete Veramente Una Piattaforma Di Horror È Legale È Legale Cavolo È Legale Cioè Dare I Soldi Allora Io Vi Dico Una Cosa Dare I Soldi Pagare Intanto Pagare Giusto Pagare È Giusto La Qualità Si Paga Un Mercato Una Una Fetta Di Mercato Può Vivere Solo Se Ha Un Entroito Quindi Pagare Giusto Pagare Tre Euro È Uno Scherzo Se Poi Dovesse Aumentare Anche A Quattro Cinque Euro Per Me Rimane Comunque Un Investimento Incredibile Perché Stiamo Parlando Di Fin Che Non C'è Anche Se Vi Mettete Non Riuscite A Vederli Tutti Sono Quelli Stranieri Molto Indie Sono Probabilmente Sottotitolati Ma Io Come Dico Sempre Ragazzi Guardate La Roba Sottotitolata Se Potete La Volta Che Avete Siete Un Po Stanchi Potete Anche Dire Vabbè Stasera No Però Quando Potete Che Non Siete Stanchi Leggetevi Sottotitoli Allenate L'inglese Ma Anche Se Guardate Un Film In Svedese Perché Sentire La Lingua Originale La Recitazione Originale La Presa Diretta Tutta Un'altra Cosa Quindi Non È Assolutamente Male Che Alcuni Contenuti È Un Bene Per La Vostra Crescita Culturale Quindi Come Dicevo Io Non Ho Tantissimo Tempo Per Vederli Però Se Diminueranno I film Che Mi Mandano Forse Un Giorno Succederà Perché Poi Alla Fine È Piccoli Grandi Influencer Io Sicuramente Sono Un Piccolo Influencer Cioè Nel senso Che Influenzo Giusto Mia Madre Mio Nonno Non Lo so Ma Neanche Loro Scherzo Quelli Stranieri Sono Tutti Sottotitolati Come Patent Seven Che vedono Lo sfondo Sì sì Sono quasi Tutti Sottotitolati Però Sì Sono Sottotitolati Chiaramente Perché Il doppiaggio È Una Questione Commerciale Che Viene Inserita In Seguito Se Il Film Farà Fare Soldi Quindi Nessuno Spende Soldi Per Un Doppiaggio Però Appunto Ci sono Tantissimi Film Indipendenti Italiani Alcuni Ragazzi Veramente Che Dicono Ma Non È Possibile Cioè È Veramente Una Figata Credo Che Crescerà Ancora Tantissimo Intanto Che Vi Parlo Facciamo Un Giro Perché Non L'abbiamo Esplorata Molto Ve La Faccio Vedere Scusate Tra l'altro Qua Vedete C'è Pet Che È Fighissimo L'appetit Mort Che È Fighissimo Film Di Zombie A Iosa Film Di Zombie A Iosa Ragazzi C'è Adesso Qua Chiaramente Sono state Vengono Promosse In Alto Le Le Robe Più Famose Perché È Giusto Così Perché Sono Appena Arrivate Sono State Aggiunte Ma Tra l'altro Veramente Per me Entrare Per me Che io Scartabello Sempre Prime Scartabello Sempre Netflix Alla ricerca Di Horror O simile Entrare In Una Piattaforma E trovare Tutte Queste Locandine Tutte Horror Tutte Così Con Questo Con Questo Stile Con Questa Mood Qua Tipico Dei Film Horror È Stupendo Vedete Qua C'è Charlie Seis Ah ecco Baby Call È un altro Film Che mi Interessava Questo Qua Vediamo Se riesco A cliccarlo Baby Call È un altro Film Che mi Interessava Adesso Qua Non vi Faccio Vedere Qua È partito Subito Il Film Ci Sono Un Po Di Trailer Insomma Navigarlo E Disiscriversi È facile Quindi Non Vi Preoccupate Poi Sinceramente Stiamo Parlando Di Una Cifra Veramente Ridicola Una Delle 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 Prime Esperienze Che ho Fatto È stato Appunto Vedere Quando sono Entrato Ho visto Subito Resort Paraíso Molto Molto Bello E poi Ho visto Un documentario Scusate Un cortometraggio Che si chiama Zombie Il titolo Era molto Banale Era Era Molto Bello Perché Era Ironico E C'erano Questi due Fidanzati Durante Un'apocalisse Zombie Che rimangono Bloccati E Gli Zombie Che sono Fuori In alcuni Casi Sono Appunto Alcuni Zombie Sono Persone Con cui Loro Hanno Avuto Dei Rapporti E Vengono Fuori Insomma Un po' Di Siparietti Simpatici Su Vari Varie Tradimenti Che ci sono Stati E Vi giuro Che c'è Una Ci sono Dei prodotti Anche Indie E Soprattutto Cortometraggi Che sono Veramente Di grande Valore E che Meritano Di essere Visti Adesso Qua non Lo trovo Perché La roba È aumentata Ancora Di più Quindi Però C'è La ricerca C'è Tutto Ecco Qua C'è In basso C'è Il La Docu Fiction Non Docu Fiction Perché Parlo Così C'è La serie Reanimator Herber West Di Van Zuccon Registra Abbastanza Noto Nell'ambito Del Cilano Indipendente Qua c'è Divina Mortis Josh Heisenberg Insomma È Veramente Una Una Realtà Incredibile Costa Solo 3 Euro Scusate 3 Euro 2 Euro 99 Ma È Ovvio Che Insomma Le regole del marketing impongono di scrivere 2 euro e 99 Lo farei anch'io se vendessi questo cappello per esempio Intanto vi faccio vedere i miei capelli così vi svelo che sono tutto bianco e ho anche una specie di riporto che non volevo avere Se dovessi vendervi questo cappello ve lo venderei per esempio a 9 euro e 99 Quindi è logico che sia così Sono veramente tre caffè Vi ho messo il link in chat ma ve lo lascio anche sotto la descrizione del video Del video perché verrà messo su facebook su varie cose insomma a me piacerebbe soprattutto che alcuni miei collaboratori poi magari si iscrivessero se gli piace chiaramente per poterne poi parlare insieme e avere più recensioni riguardo a tutti i contenuti che ci sono Tra l'altro appunto adesso con midnight factory inserita dentro ne vedremo delle belle perché Perché comunque Non tutti comprano tutti i prodotti midnight perché chiaramente non tutti se li possono permettere tutti quindi Chi vorrà seguire tutto midnight forse forse se arriveranno qua tutti i prodotti midnight o almeno quelli più quelli particolari per esempio Un prodotto che potrebbe stare tranquillamente qua sopra È darling Cose indipendenti di questo genere Midnight tira fuori veramente delle chicche incredibili It stains Descend red è veramente figo ragazzi guardatelo Insomma è diventata una piattaforma Era partita come una cosa veramente molto Di nicchia Adesso sta diventando una bomba galattica Quindi ci sono le varie app per i televisori Ci sono C'è l'app di android Insomma la potete vedere dal computer Dal telefono dove vi pare E niente se avete domande su ATV Potete farle Io Non vi posso far vedere Posso farvi vedere un trailer se volete Penso sia un trailer Penso ecco Non me lo fa vedere Perché no questo perché io Questo computer qua di qua Non lo uso mai E probabilmente Questo non volevo farvi Non Vedete no funziona È che io questo computer non lo uso Quindi è un po' Datato E non ha tutti i plug-in inseriti giusti Anche il browser che sto usando è sbagliato Potete vedere i trailer E ci sono tante novità Comunque in ballo Perché come vi ho detto Io parlo molto con loro Sono Insomma Ci scambiamo Opinioni Visto che io tratto horror Loro hanno una bellissima piattaforma Stupenda Cioè Una cosa fenomenale Iscrivetevi 30 giorni di prova Gratuiti E E basta Insomma Che cazzo vi devo dire Se poi andate in giro a vantarvi Ah io sono un fan dell'horror Mi piace qua Mi piace là Blu 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 Divoro horror dalla mattina alla sera E non hai OTV È un po' come dire Mi piace l'horror E non conosco NAQB Io vedo la Ah si infatti La Fire Stick di Amazon Funziona molto bene Mi han detto Io non la uso Perché non ce l'ho Però Sto pensando di prenderla Più che altro per L'altra tv Insomma Mettere un po' Bravo Dani Comunque Ottima Stavo appunto dicendo Se non hai OTV E non conosci NAQB Non andare in giro a dire Che ne sai Che ti Che sei un fan dell'horror Vi piacciono questi Questi slogan Che ho creato per voi Quindi insomma Questo Io spero di avervi fatto vedere un po' Com'è Poi decidete voi Però Poi non Insomma Non Tomma Cioè Sono 3 euro Fate voi Va bene Cambiamo schermata Torniamo alla nostra schermata solita Beviamo un altro po' d'acqua Questo era un po' quello che volevo dirvi su ATV Grande Games Emporium H Ore di orrore H Alessio H Ninja Insomma Uno che ne ha di Pseudonimi Che Ecco Spendo 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 qualche parola Su Alessio Di ore di orrore Che è un mito assoluto Per Per Trattare L'horror Non dico su youtube In generale Sul web E' un po' come Alex Visani Anche lui Tanti anni fa Aveva un blog Adesso magari lo cura un po' meno Perché fa il regista Però Grande sala Trattare Cioè Per chi Segue l'horror Da tanti anni Sa chi è Ale Sa chi è Ore di orrore Io la più grande Il motivo per cui lo stimo così tanto Al di là dell'atteggiamento Della Grande Caratura morale Che ha Perché si vede Che è una persona Che non Non è un opportunista Anzi Non guarda tutte queste cose qua Cosa che Dopo parliamo anche di questo Di web Di Di opportunisti Di cose così Comunque La cosa Il pregio più grande Che me lo rende Quaramente una persona Che Potrebbe anche insultarmi E io comunque Ne direi bene È Un fattore Che nessuno capisce Perché Chiaramente Un giovane Non lo può capire Purtroppo Se lo capisse da giovane Qual è questo fattore Che rende le persone Secondo me Migliori degli altri In generale Indipendentemente Dari risultati E la costanza La costanza È l'unica Carta L'unico Badge L'unico Non so Elemento distintivo Che ti fa capire L'onestà Che c'è dietro Una persona Il fatto che uno Per dieci anni Con una pausettina Giusto per prendere Una tiratina di fiato Abbia trafatto video Su youtube Che se cercate Una recensione Di un film horror Su ore di horror Su ore di horror C'è sicuro Per lo meno Tutti i classici Tutti Di qualsiasi genere Dal più trash Al più Noto Questo ti dà La misura Di quanto Alessio Sia una persona Che ama Quel genere lì E che ama Fare i video Non è solo Una questione Voglio Che ne so Essere popolare Diventare famoso Essere più figo In qualcosa No No Perché se così fosse Avrebbe già smesso Anni fa Perché Di sicuro Alessio Come me Fa un altro lavoro E Gli permette di vivere Star bene Star sereno E non è certo Grazie ai video Sull'horror Che diventi ricco Ti compri La villa con piscina Veduta Piazza del Duomo Beh io sono di Milano Lui è di Roma Non so quale sia La zona più figa Dove comprare Una casa Con piscina Non è certo Parlando di horror Ragazzi Perché l'horror È di nicchia Di nicchia Di nicchia Rimarrà Anche se in questo periodo Va di super moda Però Non è certo Parlando di horror Che diventi Famoso Ricco Diventi Uno che Tra Tra gli intenditori Magari ti vogliono Un po' bene A me per esempio Mi vogliono Un po' bene Però so che mi vogliono Anche male Perché qualche dislike Sistematico Ce l'ho E quindi Qualcuno Mi ha anche scritto Una volta Fai cagare Fai vomitare Così Così È fantastico Grazie davvero di cuore In pochi comprendono Questi sforzi Nel tempo Sforzi nel tempo Nel tempo Poi ho Detto ciò Non vuol dire Che se uno Cambia Molla È stronzo Dipende dal motivo Per cui lo fa Quello che voglio dire io È che Chi Si butta a fare Diciamo L'influencer O quello che Tentano tutti Di fare L'influencer Nessuno tenta Di Di parlare di horror In modo Dopo vi parlo anche Di una bellissima pagina E blog Che ho conosciuto Che non conosce nessuno Cioè Che ha veramente Pochi follower Adesso non voglio Che si offenda Perché io lo dico così Come Perché non è che io Abbia molti più follower Però Insomma Fa veramente Fatica a farsi conoscere Ed è una pagina Eccezionale Ve la dirò Così se volete La seguirete Direte Ti seguo Perché me l'ha detto Il guns Perché È giusto Che ci sia Giustizia Nel web Basta Con tutte Ste Merde Ste Cagate Ragazzi Farsi una foto Con il film Io mi sono fatto Delle foto Col film In mano Anzi Vi faccio vedere Che film Adesso vi faccio Un bel selfie Con voi Eh Guardate qua Guardate qua Che chicca Farsi una foto Con un film Non è sbagliato Non è ingiusto Però Cosa c'è Oltre a quello È una foto così Due foto così Tre foto così Quattro foto così Senza che tu mi dica un cazzo Faccia una recensione Mi dica un'emozione Mi dica Qualcosa che per te Significa quel film No Perché non significa Un cazzo per te Per te Significa solo Proviamo a usare Sto film Per fare una foto Che magari ottengo 100 like in più Ma una volta che hai ottenuto Quei 100 like Rimani lo stronzo Che sei Rimani lo stronzo Che sei Come io rimango Lo stronzo che sono Ma Con una recensione in più Eh Io rimango Lo stronzo che sono Ma Con una recensione Iscritta in più Lì il regista Che magari Dice Cavolo Che bella recensione Che mai fa Non perché io Gliela debba fare Per forza bella Ciao MC Ciao Quindi ragazzi Io faccio la foto Faccio Vedete un mio selfie Faccio la foto così Guardate The Human Centipede Trilogy Questa me l'ha mandata Tom Six Chissà chi è Chissà chi è E Insomma È uno che Sa di horror Ecco Ecco Questo vi voglio dire Io non mi faccio i selfie Per avere i like Io faccio Questo che faccio Perché sono felice Che poi Tom Six Mi manda La trilogia Non è che me la manda Perché io Ci possa Ci possa fermare La porta Oppure Perché io la metta Nella mia Libreria Insieme agli altri film Oppure perché io Ci faccio Salutami con una faccia Stupida scherza Ciao Fatto Questa è lei Questo è il web Del 2020 Lo streamer È schiavo Di quello che Gli chiedono Ma io l'ho fatto Solo perché A te ti voglio bene Dal Quindi Non è che io Faccio Quello che faccio Perché Voglio avere 100 like Su Instagram Ok Non so se siete D'accordo Esprimetevi Quindi Adesso Chiudiamo Sto parentesi Polemica Basta Farvi Ste cazzo Di foto Senza significato Fate una Volevete fare Una foto Con Il dvd Della casa Allora Fatevi la foto E poi Sapete scrivere Sapete ancora C'è ancora qualcuno Che sa scrivere In questo mondo Oppure sapete solo Schiacciare quel Fottuto cuoricino Se sapete scrivere Vi mettete lì E con i vostri mezzi Ognuno Anch'io non sono Un genio a scrivere Vi mettete lì E scrivete Quella volta Che vedi La casa È stata Importante Perché Mi ha fatto appassionare Fantastica Quella scena La mia preferita Capite che così Diventa meno sterile Tutta questa cosa Della Horror community Di Babbi Che si fanno le foto Babbi Che si fanno le foto Capito Babbi di minchia Che si fanno le foto Ora Non mi voglio Elevare troppo Però Se permettete Un conto è Fare delle recensioni Metterci la faccia Sbagliare Perché anche a me È capitato Di sbagliare Ho fatto anche Un paio Di errori Grossi E ho pensato Vabbè Ho fatto degli errori Grossi Rimedierò Cercherò Di migliorare Eccetera Quindi Ho fatto tanti Errori piccoli Voi lo sapete Se mi seguite Sapete che Mi incespico Sbaglio i nomi Sbaglio le date Eccetera Quindi Non mi ritengo Un fan dell'horror Scusate Un esperto di horror Come potrebbe essere Alessio Che spero sia ancora qua Alessio È Centomila volte più Enciclopedico Di me Probabilmente Si ricorda Titoli di film Titoli di attori Ed è Questo è un bene Insomma È il suo stile Il suo modo Io sono diverso Chi mi segue bene Lo sa Io Uso il cinema horror Per parlarvi di Antropologia Anche se non sono un antropologo Cioè Nel senso che Mi piace parlare Di cinema horror Usandolo come Strategia Per parlare Di socialità Di Dinamiche sociali Di social Poi parliamo anche Di social dilemma Ma qui Minchia Sto divagando Quindi Cercate di Vabbè Chiudiamo dicendo Che Mi sono rotto un po' il cazzo Di sta roba Che tutti vogliono fare Gli influencer Ma ragazzi Ma dite qualcosa Dite qualcosa Dite qualcosa Dite qualcosa Se non siete esperti Avete una cosa Che gli altri Non possono avere Tutti noi Abbiamo una cosa Che gli altri Non possono avere Che è la propria vita Quindi vi sto dando Proprio un trucco Incredibile Vi sto regalando Questo Questa cosa qua Esprimete voi stessi Però non fate Cose sterili Come Semplicemente Tonnellate di foto Tonnellate di foto Grande Scoochage Grande Tutti quelli Che sono venuti Chi non l'ho salutato Mi Risaluti Intanto riguardo La scheletta E vi segnalo Vi segnalo E lo dico Contro Il mio interesse Come dico sempre Vi segnalo Una pagina Instagram Che però voi Non dovete fermarvi Alle pagine Instagram Questa è una persona Che mi Che io ho scoperto Ma porco Zio Dove cazzo sei Scusate Perché non sono Loggato Non la trovo Forse perché Tutto attaccato Madre degli os Adesso ve la trovo Tanto fatemi respirare Un attimo Che sto parlando Da due ore Niente Non c'è Non c'è verso Di Mamma mia Perché non sono Loggato Poi Vabbè Fa niente Allora la pagina Si chiama Horror Vacui Horror Vacui La trovate anche Tra le persone Che seguo Parliamo Abbiamo parlato Finora di Otti Viti Consiglio Se puoi Se hai voglia Descal Adesso metto L'articolo a chiunque School Cage Ti consiglio Guardare la prima parte Della live La pagina Horror Che seguo In realtà È un mio follower Un mio follower Che Aveva partecipato Tantissime volte Alle live Quelle che facevo Su Instagram Ed era sempre Molto gentile Molto Mi piaceva Cosa faceva E non ero Però andato Mai a fondo Poi mi sono Detto Ma andiamo a vedere Un attimo Il blog E questa persona Si chiama Alessia Balsamo Gestisce Horror Vacui Che è una pagina Instagram Con un blog E sul blog Ha fatto un articolo Su Gli horror Che trattano La magia nera Il folklore Insomma Le varie Tradizioni Tribali E magiche E folcloristiche Nel cinema Horror Io Vabbè Ho letto solo La prima parte D'articolo Perché poi dopo Analizzavo Film per film E c'erano tanti film Che non avevo visto Onestamente Non volevo andare A rovinarmeli Però C'è Un articolo Enorme Fatto da Dio Che comunque Non avrà tantissima Visibilità E E si è fatta A un mazzo Per farlo Ed è una figata Perché si Almeno se vi fidate Un po' di me Questa ne capisce Di Di horror Intelligente Arguta E Tra l'altro Affronta anche lei Il tema Del cinema Come lo affronto io Un po' Usandolo per parlare Di altro Detto ciò Seguite Horror Vacui Se vi va Dite che vi manda il Gons E Andiamo a parlare Di altre due o tre cose Che vi interessano La La prima Facciamo un po' All'indietro Rispetto alla scheletta Voglio parlarvi Siccome abbiamo già fatto vedere All'inizio Voglio parlarvi di Questa edizione Non ve la apro Questa è un'edizione Di The Human Centipede 1, 2, 3 Quindi tutti e tre i film Infatti si chiama The Human Centipede Trilogy L'edizione Uncut Limited Edition Prodotta Direttamente da Tom Six Infatti c'è scritto 100% Approved Tom Six Approved Qua E poi qua c'è scritto Delle robe in inglese Disfin Insomma Precauzioni Su sto film Perché può creare disgusto Se conoscete The Human Centipede Lo sapete Lo sapete Che fa Per quel che ho visto OTV È un prime video Dedicato all'horror Sì Ma quello che trovi Su OTV È una figata Perché è tutto cinema Indipendente Adesso stanno anche aggiungendo Le cose di Mindy Factory Quindi E costa 3 euro 3 euro Tosta la trilogia Tostissima È una steelbook Non ve la apro Non ve la apro Sapete perché? Perché devo fare? Perché Intanto Grande Sergio OTV Ah cazzo Sergio OTV Cazzo Sergio OTV Ragazzi Ma qua Abbiamo Il creatore Di OTV Grande Che sei venuto Non gli ho neanche mandato L'invito diretto Quindi Ti ringrazio ancora di più Ciao Leach Stavo giusto dicendo Che qualcuno School Cage Diceva OTV È un prime video Dedicato all'horror Ma io dicevo Sì Però Con tantissima Roba indipendente Poi l'aggiunta Di Midnight Factory E ho visto Incredibile Anche Charlie Seis Che non so Adesso non mi ricordo Se E CG Entertainment O altre Case di produzione Comunque Vedo che c'è Un'espansione Comunque l'importante È che sia tutto Horror E thriller Chiaramente Perché come dicevo Chi ama l'horror Manca un po' il thriller Purtroppo Però Ecco Però ecco Se volete Mentre io continuo a parlare Perché in realtà Caro Sergio Io No Mad Entertainment Grande Vedi Adesso abbiamo anche Se volete fare delle domande Siccome io ho dedicato la prima parte della live A Parlare di OTV Ho fatto vedere le schermate Eccetera Però Mentre io vi parlo di The Human Sentipede La trilogia Voi potete Se avete voglia Fare delle domande Direttamente a Sergio Qua in chat Se volete Se resta Se no Altrimenti Potete semplicemente Visto che Che cazzo c'è da chiedere Costa 3 euro Ragazzi Ma voi Avete idea Cioè Quanti soldi Sbattete via ogni giorno Se siete fan dell'horror Questa piattaforma La dovete avere Di default Tipo Ah guarda Faccio 5 minuti E ti guardi Un cortometraggio Ah stasera Non so cosa guardare Mi guardo un film Un lungometraggio Su OTV Quindi Fate le domande A Sergio OTV Fantastico Il nick Così Inconfondibile E Comunque Sergio Se hai voglia Di vedere La prima parte Di live E poi Quando sarà finita Sarà disponibile In differita Ma poi la caricherò Anche su Youtube Facebook Insomma Cercheremo di farla vedere Un po' in giro Però Appunto Ormai stavo andando avanti Con la scaletta Che era questa Quello che volevo dirvi È che Tom Six Mi ha Mandato Direttamente Cioè Dalla sua La sua segretaria La sua collaboratrice Non so chi sia Una collaboratrice Mi ha mandato Il La trilogia Per recensirla Motivo per cui Non riesco sempre Il grande oro di orrore Channel Che hai fatto Il cinema indie Non se batte Grande Il romanaccio Orre di orrore Channel Grande che hai fatto Il change Di canale Così Chi vuole seguire Orre di orrore Channel Io E orre di orrore Orre di orrore Channel Ha il merito Di essere stato Il primo Ad aprire il canale Dedicato all'horror Su Su Twitch Io ho il merito Di essere il secondo Al mondo Italiano Chiaramente Di avere aperto Un canale Dedicato all'horror Su Twitch Quindi siamo i primi due Ufficialmente Cioè Perché io ho guardato Non c'è nessun altro O per lo meno O per lo meno i primi due Che lo fanno Con un minimo Di impostazione Serietà Una live insieme Non vedo l'ora E io e lui Abbiamo una roba Che si chiama C'è la possibilità Dei canali Di ostare L'altro canale Quindi se io Non ci sono E lui va In Live I miei utenti Andando sul mio canale Possono vedere Il suo canale Quindi è una roba Molto carina Per sostenersi Perché è Nello spirito Che io e Alessio Condividiamo Cioè lo spirito Di Di fare le cose Perché ci piace Non perché vogliamo Dei tornaconti Poi detto ciò Io per fortuna Dei tornaconti Ce li ho Che sono le Appunto I doni Che mi arrivano Da Midnight Factory Da Tom Six Insomma Questo è anche Un mio pregio No? Saper avere relazioni Se volete anche Imparare questo Seguitemi Non ve lo apro Non ve lo apro Perché? Perché devo fare La recensione Mi riguarderò Tutti tra i film E Con i sottotitoli In italiano Quindi la potete Comprare Non è carissima Per come si presenta È molto carina Dentro Speravo Mi mandassi Anche la maglietta Il cappellino Eccetera Però vabbè Devo dire Che sono già contento Così Però sai Nella mia Indole Da cattone Mezzo scozzese Per chi mi segue Lo sa Speravo In qualcosina Di più Però Cazzo Non E vedi che faccio La figura Faccio la figura Del barbonazzo No no Sono molto contento Di aver ricevuto La steelbook E farò la recensione Appena rivedrò Tutti i film E i contenuti speciali Che penso ci siano Perché Ma ci sono sicuramente C'è un bonus Io mi hanno sentito Vabbè Non vi dico un cazzo Perché dovete guardare Il video La video recensione Che farò Nel frattempo Aspettate Aspettate Insomma Aspettate Andate su a tv Guardate Che ne sappiamo Se un giorno Magari Sergio riesce Ecco Adesso gli do l'idea Perché non contatti Magari Magari Ti dice di no Magari ti dice di sì Tom Six Per Trasmettere Con i sottotitoli Tra l'altro Già creati Da lui Su a tv Minchia I tre human centipede Secondo me Fai Fai un bel colpo Perché Diciamo È un titolo Che Che fa molto Attrae molto Comunque Passiamo oltre Io avevo promesso Di parlare Di social dilemma Ne avevo già parlato Però ne voglio parlare ancora Perché è collegato Al tema Delle serie tv Ed è un altro tema Che è quello Che io Voglio lanciare Che vi invito A discutere Anche tra di voi Sui vostri canali Che è quello Dell'obologazione Del gusto Ragazzi Perché è un tema Che ha a che fare Sia con le serie tv Ma in realtà Ha a che fare Tantissimo Con il cinema americano Il cinema di importazione L'imposizione Insomma Del cinema L'imposizione Yankee Proprio Cioè Loro Gli americani Con tutto il bene Che gli si può volere Non Non possono fare a meno Di invadere Culturalmente Tutti gli altri E assorbire E distruggere La cultura degli altri Secondo me Nel senso che Solo gli americani Quelli un po' più Colti Apprezzano E tutelano Gli altri Tendono Insomma A inglobare A pensare Che il mondo Sia solo l'America Mentre invece C'è il vero mondo È al di fuori Dell'America Perché il mondo È molto più antico Di quanto è antica L'America E ha tantissima cultura Che loro non hanno Comunque Di social dilemma Vi avevo detto Che ovviamente È una Un documentario Che parla dei danni Che può creare Possono creare I social network Molti di voi Si stanno disiscrivendo E secondo me Fate bene Ma fate male Se lo fate Senza cognizione di causa Cioè Non avete avuto La cognizione di causa Quando vi siete iscritti E io Mi ci metto Anche io dentro Nonostante io sia Un esperto di web Perché ci lavoro Dal 99 Quindi fate un po' voi Molti di voi Manco erano nati Quindi Non abbiamo avuto Quella cognizione di causa Quando ci siamo iscritti A 3000 social network Non abbiamo avuto Cognizione di causa Quando abbiamo accettato Mille condizioni Senza leggere Le postille Allo stesso modo Non è giusto Cancellarsi Senza Sempre per impeto Senza quella cognizione Di causa Quello che voglio dire io È Non cancellatevi Da Non apri questo blog Fondamentalmente Cioè Cancellatevi Vedete i social Ma non da quello Che è veramente Interessante per voi Perché i social Come la mail Come il forum Come il sito Come youtube Come appunto TV Che è una fantastica realtà Streaming Sono tutte cose Che possono essere Portatrici di cultura O di buon senso Non devono necessariamente Essere Meccanismi diabolici Che ci rovinano la vita A tal proposito Social dilemma Appunto Butta merda Su tutti i social network Come per dire Noi siamo buoni E gli altri Sono cattivi La verità È che la battaglia Del 2020 Insomma La battaglia Che è iniziata Molto prima Però adesso È ufficiale Tutti lo sanno Perché sta venendo fuori La vera battaglia È quella Dell'attenzione Degli esseri umani Ma al punto tale Che io credo Che un giorno Verremmo pagati Per guardare quello Piuttosto che quell'altro Lo so che vi sembra ridicolo Ma vedrete Che il gonzo Non è la prima volta Che fa delle predizioni Che poi si avverano Quindi Il vostro tempo Diventa quasi un valore Una moneta di scambio Come lo possono diventare Le vostre email I vostri numeri di telefono Questo ve ne state rendendo conto Perché vi stanno massacrando Con mille pubblicità e cose E in questa battaglia Netflix Esatto Infatti Sergio dice Io con Sergio ho già fatto Questa discussione Perché chiaramente Sergio ha una piattaforma streaming Io sono comunque Un esperto di web E mi interessa comunque L'argomento Insomma è venuto fuori Che ne abbiamo discusso Lui giustamente dice Netflix è furbo Perché Usa gli stessi meccanismi Cioè l'analisi degli algoritmi Per trattenere le persone lì Ma non solo Fa un esempio lampante Di Di diciamo manipolazione Che usa Quella che ha usato Con Bandersnatch Cioè il famoso film interattivo Io so di persone che per vedere Tutti i finali alternativi di Bandersnatch Hanno speso 16 ore Della loro vita Ora io dico una cosa Ci sono persone che non spendono Due ore per vedere 2001 Odissea nello spazio Scusate se cito Un film non horror 2001 Odissea nello spazio È una roba Ragazzi Che io Quando lo guardate Vi sentite piccoli Come Una stella Nell'universo E E però Cazzo Devi vedere assolutamente Tutti i finali alternativi Di quella grandissima merdata Che è Bandersnatch Io È quello che non Quello che È da lì che voglio partire Sul discorso Delle serie tv E L'omologazione del gusto Quello che fanno Le piattaforme Come Netflix Soprattutto Rispetto a Prime Perché Netflix Punta tantissimo Sulle serie tv È Creare una forte dipendenza Verso prodotti commerciali Di bassissima qualità Bassissima È un esempio lampante E The Walking Dead War Beyond Che è Questa serie tv Spin off Cioè avevano appena detto Che dopo 11 stagioni 10 stagioni Adesso correggetemi voi Se siete esperti Di The Walking Dead Dopo tutte queste stagioni Di The Walking Dead Che è la famosissima serie Che io chiamo The Trekking Dead Perché la gente In The Walking Dead Non fa che camminare Infatti si chiama The Walking Dead Ma non sono i morti Che camminano Sono i protagonisti Che non fanno altro Che camminare Camminare Nei boschi Nelle strade In mezzo alle città Desolate A chiacchierare E a fare Le classiche dinamiche Da sopopera Del cazzo Dove Su 10 stagioni Ci sono 4 momenti Eclatanti E basta Questo è E soprattutto Ce n'è solo uno Veramente eclatante Che è la morte di Glenn E scusate se spoiler Ma andatevi E' una fanculo Se volete guardarvi The Walking Dead Perché non me ne frega Un cazzo Di averlo spoilerato Perché è una grandissima Merda Io Leggevo il fumetto Non l'ho più portato avanti Prima di vedere la serie tv Quando è uscita la serie tv Ho detto Carina Ah beh To All To Die Young È una serie molto figa Però Anche lì Ci sono delle cose Che a me Non tornano molto Comunque Adesso Adesso leggo Scusate Tutto questo per dire Che Se voi ci fate caso L'utente medio Quando si sfoga Su facebook Soprattutto perché facebook È il classico Vomitatoio Delle insoddisfazioni Moderne Esordisce Esordisce Sempre così Ma La prima puntata Parte un po' così Speriamo Che si riprenda Ma che cazzo È una partita di calcio Ragazzi Ma In una partita di calcio Succedono Delle cose Delle dinamiche Molto Molto interessanti Cioè Una partita Può essere bella Dall'inizio alla fine Può essere brutta E migliorare Può essere Iniziare bene E finire male Ma soprattutto Uno può Uno può Uno può Uno può anche dire Vabbè Però a me interessa Il risultato Ok Una serie tv Non puoi dire Una serie tv O un film Non puoi dire No un film è un'altra cosa Una serie tv Non puoi dirmi È iniziato male Perché poi è questo il concetto Però Aspetto Perché io voglio Vederla Voglio vederla tutta Voglio vederla tutta Eh Quindi È iniziato male Ma chi se ne frega Si è iniziato male Butto via Trenta ore Della mia vita Perché Alcune serie Sono veramente Una roba Infinita Ma ragazzi Ma buttate via Il tempo Quando potete Vedere un bel film Quando potete Vedere un bel film Un classico Che non avete mai visto È pieno Zeppo di Io non ho visto Un sacco di roba E me la sto vedendo Io l'altra Allora L'altra sera Ho visto The Walking Dead War Beyond Ragazzi Sembra Glee In versione zombie Glee Avete presente Glee Quella roba Per teenager È praticamente Dopo Undici stagioni Di The Walking Dead Cosa succede Che siamo Di nuovo Lì Esatto Sono quindici film Dieci film Anche fossero cinque film Ma vi rendete conto Che cultura Che vi fate Anche solo dicendo Guardate Mi guardo dieci film Di cui cinque Sono delle cagate E cinque Sono dei capolavori Ma cazzo Ma ne uscite Veramente Molto più arricchiti Sia a livello Come proprio Sviluppo emotivo Vostro Perché secondo me Il cinema E come vi ho detto Prima a me piace Parlare del cinema In questi termini Il cinema È una grande Palestra emotiva Che dovete Però che la dovete Usare in quel senso lì Cioè dovete Arricchirvi Arricchirvi Non guardare Sta fuffa The Walking Dead Dopo Dieci Undici stagioni Dove sono Rinchiusi Dentro le Queste mura Fatte di Alluminio I morti fuori Le camminate Che da cosa Comincia Dopo dieci anni Sono di nuovo Chiusi dentro A delle mura Sono alleati Con altri due Stronzi Due gruppi di Stronzi Che sono Chiusi anche loro Dentro delle mura Magari un po' più Grosse Ma sempre delle mura E che cosa Cazzo fanno Alla fine Della primo Episodio Si prendono Un bello Zaino Se lo mettono In groppa E iniziano A camminare Ma sul serio Questo non vi fa capire Quanto vi hanno Riempito il cervello Di sta merda Cioè Io non lo so Io non sono contro Le serie tv A me Twin Peaks Piaceva Twin Peaks Piaceva Ci sono Che ne so Anche Come si chiama Quella della droga Come cazzo si chiama Breaking Bad Breaking Bad Mi è piaciuta tantissimo Scritta bene Tante idee Ma poi Ma poi Che ci sono anche Delle implicazioni Interessanti Lui che Ritrova Un lato di sé Che non esiste Nella sua vita Normale E facendo la vita Criminale Invece diventa Scopere un Se stesso diverso Leggo un attimo I commenti Perché non vi voglio Trascurare Ci abbiamo provato Ma non ci risponde Magari Magari se Si prende bene Per la mia recensione Provo a interagire Diciamo che Netsu fa molto Furbo Infatti traccia Tranquillamente Infatti traccia Tutti i dati E soprattutto Vi obbliga A stare A casa A guardare la tv E diventare Dipendenti Da questa cosa Senza Consapevolezza Ecco io Un invito Che faccio Ma non ho neanche Bisogno di farlo Perché già Per come nasce O tv Invece è Un luogo Dove fai scelte Consapevoli E' diverso E' diverso Tu o tv Non troverai La serie Che ti rimbambisce Cioè Sono tutti prodotti Ultra particolari E anche i prodotti Midnight Factory Che sono stati portati Sono film indipendenti Sicuramente Con budget Superiore Tutto quel cazzo Che vuoi Ma nell'ottica Dell'indipendente Perché It Stains The Sad Red Lì come cazzo si chiama Quello del deserto O Let It Out Sono film indipendenti Cioè Fatti bene Con più soldi Ma sempre indipendenti Come mentalità E poi mi chiudo E poi mi chiudono To Old To Die Young Che è la famosa serie Di Refn Veramente molto bella Esteticamente E' sicuramente Molto più autoriale Molto più interessante Ma te la chiudono Perché dura E' molto lenta E appunto Il pubblico Deve essere abituato A Al veloce Ma dove non succede Un cazzo Cioè Più velocità Meno contenuto Poi detto ciò Io sono anche Abbastanza contro A questi film Perché questo Alla fine Mi sembra che L'abbia detto anche Refn To Old To Die Young Che è una serie Diciamo Thriller Poliziesca E lo ha detto Anche lui Mi sembra Deve l'ho sentito dire Ha detto E' un film lunghissimo Tagliato in episodi Ho capito Però cioè Cerca di esprimere I tuoi concetti In un due o tre ore Al massimo di film Che cazzo Analogia interessante Non so quale Ma ne faccio Veramente tante Ti ringrazio Ma come fai a essere Dentro con Semi Grazie che sei dentro Con due profili Ti lovo tantissimo 30 ore sono Almeno 15 film Sì poi adesso Film più film meno Insomma C'è E' fatto bene a ribadirlo Sembra Il gioco DayZ Esatto Il gioco DayZ Che non ci ho mai giocato E' un gioco veramente Indie però Molto sgrauso Perché ha una grafica sgrausa E' tutto sgrauso Dove vai in giro Devi sopravvivere Zombie Cammini tanto Probabilmente cammini all'infinito Anche i visitor Non era male Però ecco Quelli erano Altri tempi C'era Il tema comunque Del fatto che erano telefilm Quelli erano telefilm Però non era il telefilm Come l'A-Team Che la storia Era sempre la stessa Che si ripeteva Era uno telefilm Con una lunga storia Da raccontare Erano difficili Da elaborare Tra l'altro Mi sembra che Se non sbaglio Tu sei sicuramente Più esperto Visitors Era un film TV Insomma Un grosso filmone Che poi è andato bene E hanno fatto Il seguito In versione Serie tv Quindi appunto Nasce con un'altra Mentalità Breaking Bad È stupendo Concordo Molto bello Molto bello La parte finale Un po' meno Ma Ma comunque Alla fine Nel suo complesso Non mi è sembrato affatto Di aver buttato via Del tempo Vedendolo E ci ho perso Veramente le nottate Perché non riuscivo Ho fatto proprio Bing watching potente E non riuscivo A smettere Bing watching Per chi non lo sapesse È un altro di quei cazzo Di termini Amerigeni Per dire che Stai tanto a guardare Le serie tv Anche True Detective La prima stagione Mi era piaciuta molto The End of Fucky World Così così Però sì Già comunque Stai citando Dei prodotti Molto più interessanti Infatti Io non sono estremista Però quello che voglio dire È che si va Sempre di più Verso Questa Grande Forte dipendenza Verso le serie tv Io per esempio Ho visto Ratched Ratched Questa serie tv Con l'attrice di American Horror Story American Horror Story Non lo sopporto ragazzi Ho provato a guardarlo Non lo sopporto Non mi sembra Una roba di grande qualità E non è neanche Abbastanza trash Da dire Vabbè me lo guardo Perché è una trashata Perché io amo anche Il cinema trash Però deve essere Sinceramente trash E questa Ratched Il primo episodio È veramente Un episodio Molto carino Un po' thriller Però alla fine Ma ha rotto i coglioni Ma che cazzo Io voglio vedere Le robe fighe I film belli Con le idee Non sta roba Cioè Mi ha rotto il cazzo Anche la Basta Non voi Nello specifico voi Anzi Voi li salvate Perché seguite me Ma se vedete Una fotografia Di un film indipendente Particolare Stramba Fatta magari Volutamente stramba Vi stizzite Ma che è sta ramba Ma non è bello Come l'ultimo film Di Mel Gibson Capito? Quello che intendo Per omologazione del gusto E OTV È Un luogo Pieno zeppo Di cose assurde Di film indipendenti Di persone Libere Libere Di fare il cazzo Che vogliono Perché tanto sanno Che non diventeranno mai ricche Con quel film E quindi lo fanno esattamente Come lo vogliono fare Senza pensare A quanto guadagnerà A cosa dirà il produttore Come verrà distribuito Quindi OTV È veramente una salvezza Per il genere cinematografico Per il genere cinematografico Perché Quando è nato il cinema Non gliene fregava un cazzo a nessuno Come erano i film Era tutto sperimentale Tutto Si provava tutto A tutti Piaceva tutto Perché era Era la prima volta Che la gente andava al cinema Figurati se usciva da un cinema E diceva Ma che è sta roba Le immagini si muovono A me piacciono le immagini ferme Nessuno criticava Il cinema Era una magia Sarebbe fico Phantasmacoria Su GodTV Faccio io Da promoter Phantasmacoria È una bellissima serie Doku Creata da Ore di orrore Con dei suoi collaboratori Che parla Di leggende Ovviamente legate Al mistero E cose orrorifiche Italiane Diciamo che Però Chiaramente I prodotti gratuiti Cioè I prodotti Che sono gratuiti Su Youtube È difficile Adesso non vorrei dire Che uno li metta Su 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 Ottv Però si può Pensare Insomma Che Entriate in contatto Per eventuali Collaborazioni future O per Altri tipi di situazioni Però sì Phantasmacoria Ci sta benissimo Su Ottv Perché appunto Parla di queste cose qua Io l'ho vista Devo dire che mi è piaciuta Parecchio Per la sua natura Molto indie Molto libera Fatto come cazzo Volevano loro Quindi Questo per dire Che Netflix Soprattutto È per l'omologazione Del gusto Quindi tutti Devono avere La stessa fotografia Gli stessi attori che girano Sempre gli stessi Sempre gli stessi attori che girano Sempre tutto perfetto Tutto di plastica Tutto da sopopera Ah grande, grande Fantastic Fest tra l'altro che a Roma Cioè vicino a Roma Guarda se mi ospiti vengo anch'io E qua lancio la bomba Se mi ospiti a dormire Perché non voglio spendere soldi Vabbè a parte Non volevo metterti in questa condizione Comunque Tra l'altro Fantasmagoria La serie di ore di orrore La vedrete anche che bello Magari sul grande schermo Perché ci sarà uno schermo Lo deduco Visto che è un festival di cinema horror E della letteratura horror anche Tra l'altro con Asylum Sapete che abbiamo collaborato tanto Io ho scritto articoli Anche altri collaboratori Non ho scritto articoli Suo Asylum Poi abbiamo dovuto interrompere Per mancanza di risorse Insomma non ce la facevo più A stare dietro a tutto Faccio su e giù Ah Beato te che fai ancora su e giù Io ormai Mi sono arreso Non faccio più su e giù da tanto A parte le cazzate Insomma volevo dirvi questo Non disattivatevi da tutti i social Ma una cosa importante che potete fare è Disattivare le tonnellate di notifiche Inutili Lasciare solo quelle di non aprire questo blog Anzi assicurarvi che ci siano E Siamo in due allora E E comunque si Fate attenzione ai social Fate attenzione agli smartphone Fate attenzione a tutto Ma Questi Questi strumenti possono essere usati Scusate Mi devo pettinare Perché c'è un po' di Questi strumenti Possono essere usati Come stiamo facendo in questo caso Per chiacchierare E affrontare E approfondire Dei temi importanti In questo caso cinematografici Ma oggi ho divagato anche sul tema Di social E social dilemma Comunque Insomma Ne riparleremo Ne riparleremo Perché mi interessa Questo discorso Di social network Di come funzionano Adesso poi Ho avuto un confronto Con un'altra pagina Che io Sono amici Sono molto grossi Anche loro Hanno notato che Che ormai Tutti fanno Tutti fanno tutto Tutti fanno Tutti trattano Argomenti Senza Un minimo Di Così Tutti possono parlare di tutto Quindi ormai Non so più neanche Che cazzo ci sto a fare Qua tanto Vabbè Questo piccolo momento Di sfogo Dove Non ho detto niente Comunque Vi consiglio assolutamente Di non vedere The Trekking Dead Su Prime World Beyond La spin off Perché è veramente Da vomito a spruzzo Cioè Questi ragazzini Sembra The Stranger Things Unito a The Walking Dead Unito a Com'è che si chiamava Topazio No La telenovelas Con Gressia Colmenares Porco zio Ai miei tempi C'erano le telenovelas Ragazzi Cioè Quelle si chiamano Spazzatura Vero Beh Ed alla fine Le telenovelas L'impianto Ha un po' Contaminato Tutto il discorso Delle serie tv Che sono Che sono telenovelas Ragazzi Ascoltate Mi cazzo A proposito Di film Graziosi Topazio Hai vinto Con Topazio Topazio Ma Non avete idea Di che schifo Io Sapete che Assendo un amante Anche del trash Quando lo davano in tv Mi fermavo a guardare Questi che litigavano Perché poi litigano Sempre Le telenovelas C'è sempre qualche Ah tu hai lasciato La tazzina Sul lavandino E partivamo Grande Sergio Salutiamo tutti La tv E soprattutto Vediamo se c'ho qua Il link No non ce l'ho Aspettate un attimo Soprattutto Ragazzi Adesso vi metto Il link Andate Copy Indirizzo Andate Iscrivetevi Fate i 30 Abbiamo messo il link In chat Ve lo metterò anche Sotto al video Quando lo caricherò Questo video Su altri social Iscrivetevi 30 giorni di prova Gratuito In questo istante Porco zio Poi 5 minuti Mettete la carta Non vi tolgono un euro Se non vi piace Dopo 30 giorni Lo togliete E poi Venite Se volete Ne parliamo anche E dite Guardate Io Non mi piace Ma non è possibile 3 euro 3 euro al mese Fate Vobis Poi se volete Buttare via 5 euro Per un pacchetto Di carte pokemon Perché siete Dei rincoglioniti E allora Andatevene a fanculo E non sto bevendo Sto bevendo acqua Per me Numero uno E questa è una citazione Solo per i più anziani Ciao Sergio Un bacio Poi ci risentiremo Per un sacco di cose Che hai contro i pokemon Ma scherzo Ma sai che Adesso ti faccio Uno spoiler Poi ritorniamo A parlare di cinema Lo spoiler è questo Che ho contro i pokemon Te lo dico subito Che mio figlio Mi fa spendere tonnellate Di soldi In carte pokemon E secondo me Non è un prezzo Adeguato Cosa c'è dentro L'acqua Acqua Però Con aggiunta Di acqua doppia No E che alla fine Divento euforico Perché sono contento Quando riesco A parlare Delle cose Di cui volevo parlare E la Diciamo La live Non diventa sterile A volte Mi è capitato Di fare delle live Che magari Non mi sono riuscite Come volevo Questa mi sta riuscendo Perché sono riuscito Comunque a passare Dei concetti Che avevo Da passare Voi ci siete Mi fa piacerissimo Mi state scrivendo E quindi L'euforia È tutta naturale Diciamo Riguardo ai pokemon Semplicemente Sono stufo Di pagare 5 euro a pacchetto E quando mi va bene 5 euro due pacchetti Detto ciò Da ragazzino Avevo Il game boy E giocavo A pokemon In spiaggia Perché non è che ci fossero Molti giochi E pokemon Era comunque un gioco Che mi rompevo Un po' mi rompevo il cazzo Però un po' Mi intrigava anche Quindi ci giochichiavo Col gioco dei pokemon E ce li ho ancora Qua Le cartucce Del gioco dei pokemon Anche se preferivo Molto di più giochi Tipo final fantasy tactics O Quelli un po' Tattici Con l'ambientazione Medievale Eccetera Chiuso l'argomento pokemon Vi volevo dire Che è molto meglio Vedersi due bei film Come ho fatto io In questi due giorni Che non avevo visto Uno è Faust Di Brian Yuzza E l'altro è The Bay Di Non so chi Però comunque Tanto di cappello Perché The Bay È un film Fan footage Di questa Baia In America Dove L'acqua Succede qualcosa Nell'acqua E c'è una specie Di contaminazione E un parassita Entra dentro le persone Nel giro di poche ore È strabello De Bay Strabello Strabello Con i suoi difetti Con i suoi difetti Però Ecco Strabello Torniamolo stra Bello De Bay Divertente Impostato bene Scritto bene Tutto fan footage Con diciamo Sorgenti video Che arrivano E che lo rendono Molto più divertente Perché le sorgenti video Arrivano Da un cellulare Da una videocamera Da una Telecamera di sicurezza Da una telecamera Dell'auto Della polizia Insomma Viene fatto un collage E Tutto questo collage Riesce a raccontare Molto bene Questa storia Che anche Riesce a essere Anche molto Creepy Molto creepy Perché ci sono Questi Blatte Orrende E cattivissime Infatti Conferma anche Ore di orrore De Bay funziona Davvero bene Funziona Esatto Quando un film Funziona bene Certe piccolezze Piccoli errori Ci passi sopra Tranquillamente E questo accade Spesso nei film Indipendenti E De Bay Non è un film Indipendente Però è un film Comunque Di sicuro Non fatto con i miliardi Ecco Qualche milione Lo stesso accade Per Dark Dark Skies Che è sicuramente Inferiore A De Bay Ma è un film Che tratta Il tema Degli alieni In modo Sì anche lì Forse c'è Qualche errore In più Diciamo Forse l'errore Più grande Di Dark Skies È Questo C'è Questo stereotipo Questo personaggio Stereotipato Che non se ne può Più nel cinema horror Che è il classico Vecchio pazzo Che sa Tutta la verità Cioè Il vecchio pazzo Che sa Tutta la verità Ha rotto i coglioni Cioè Perché non ci vuole Molto Fare Un altro personaggio Un'altra cosa Un'altra idea E lì Anche lì C'è il vecchio pazzo Che sa Tutta la verità E Che nessuno Ascolta E lui invece Sapeva tutto Questa roba Ha un po' Rotto i coglioni Però Insieme ad Un altro paio Di cazzate Che forse Non erano Perfette Però Per il resto La questione Alieni È gestita Veramente Molto bene E Poi Insomma Non è un Happy ending Movie Quindi Ci sta A me piacciono tantissimo I film che finiscono male Tutti i film che finiscono male Adesso vi ho spoilerato Che finisce male Ma Chi se ne frega Quando si parla così a manetta Mentre Perché metto sempre Il de Non lo so Comunque Faust Tanto qua Cosa succede Qualcuno ha Mi è arrivato un messaggio assurdo Il messaggio è stato sospeso Per il seguente motivo Furto di identità Se l'autorizzo Verrà pubblicato Nella chat Boh Io avevo guardato Il trailer su YouTube Leggevo un sacco Quella gente che diceva Ma lo consento Perché Eh sì 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 Ma come fai Come fai The Bay Non è un film di zombie Ecco Questo ve lo posso spoilerare È un film che ha Un'idea originalissima Dietro Molto carina Peraltro Veramente Credibile Possibile Questo è molto bello Per il cinema Tra l'altro Io dovrei fare anche Il video Aggiornamento Della collezione Se riesco Lo faccio Sì Perché Dovrei riuscire Dai Me ne vado giù in cantina Faccio anche una live Da Instagram Se qualcuno vuole Continuare a seguirmi Mentre mi preparo Finiamo gli argomenti Insomma Faust Di Usna È una roba allucinante Cioè Purtroppo L'ho dovuto vedere Doppiato in italiano Il doppiaggio Non è bellissimo Però Probabilmente Sarebbe stato Molto più bello In inglese Perché Poi ho sentito Anche negli extra Le interviste Il protagonista Ha una voce Molto bella Grossa Invece Il doppiatore Mi sa che è uno Di quelli Dei cartoni animati Perché Esiste realmente Infatti Come dicevo Il parassita Di The Bay Insomma È Solo che Infatti È pensato benissimo Il film È pensato bene È semplice È fatto Boom Pim Boom Pam È grandioso Ma fa anche un po' schifo A volte Fa Da proprio un senso di schifo Di nausea Di paura Di paura Di angoscia Di pena Insomma C'è un po' tutto Mentre invece Faust È una specie Di spawn Che incontra Appunto Il mito di Faust Quindi Il patto col diavolo Ed è un Film horror Quasi supereroistico Nel senso che Lui Sembra un personaggio Di supereroe Cattivo Tanto di quello Splatter A volte è fatto Anche bene Che Che non se ne sa Proprio Sembra Splatter Di Peter Jackson È Veramente Divertentissimo Secondo me Tantissimo Nudo C'è questa attrice Mi ricordo Spagnola Tedesca Insomma Una pertica Strafiga Sempre nuda Scene Di sesso Scene comiche Scene splatter Di tutto Veramente Un film che Ogni due per tre Scusate Ho picchiato Conto il tavolo Ogni due per tre Sei lì che ti chiedi È una trashata O è una figata Alla fine Lo finisci E dici No Nel suo Il suo l'ha fatto È un film divertente Non devi prenderlo seriamente E poi Nel suo essere trash Però comunque Ha una regia Che è mostruosa Con delle Con anche delle Degli esperimenti Qua e là Che Yuzna fa Movimenti di camera Filtri Cose Cose interessanti Proprio Esperimenti Si vede che era libero Di fare un po' Il cazzo che voleva E questa E questa è una cosa Molto figa Quindi guardatevi lì Faust l'ho pagato Due euro In un mercatino Debay pure Forse addirittura Un euro Debay Un blu ray Si vede perfettamente Purtroppo non c'era un extra Mi avrebbe interessato Vederli Adesso Siccome sono in live Da un'ora e mezza Se non sbaglio Vi voglio Chiedere questa cosa Intanto Se avete domande Su tutto Quello di cui abbiamo parlato Fatemele adesso O taccete per sempre Io inizio a spiegarvi Il motivo per cui Ho chiuso un ergasmo Che è il mio sito Dedicato al mondo nerd Se arrivano domande Rispondo Se non arrivano Chiudiamo E vi invito sempre A seguire anche Orre di horror Channel Che è l'unico Altro canale Che parla di horror Sul twitch Se avete fatto Twitch Per me Per seguire Non aprite questo blog Avete l'opportunità Di seguire anche Ore di horror Che mi sembra Una valida alternativa Più che valida alternativa Quando non ci sono Anche perché Non è che ci sono sempre E comunque Secondo me Anche te Alessio Non ci sarai sempre Perché non puoi parlare Tutte le serie di horror Prima o poi Ti esaurirai Comunque Insomma In due Magari Copriamo Un po' Più giornate Più temi Più cose Poi faremo Faremo qualcosa Insieme Dove Faremo una live Insieme Non so Penso che si possano Unire Le stream Sarebbe figo Perché almeno Uniamo Gli utenti Diciamo I follower Del canale Li uniamo E stiamo tutti Insieme E facciamo vedere Un po' Al mondo Dei Giovani Influencer Che vogliono Diventare Tutti Vogliono Diventare Io dico Che vogliono Diventare Tutti Ore di Orrore Perché per me Ore di Orrore È il È il Prototipo Dell Dell'influencer Di horror Perché quando parla lui C'è veramente tanta gente Che lo segue Perché si è guadagnato Questo Questa influenza Sarà guadagnata Lavorando Quindi Sfido chiunque A dire che non è Capace E quindi Che cazzo Che cazzo volevo dire Prendete esempio Cioè le cose si fanno Per divertirsi Non per avere Più Per spettatori Più Si vive una volta Una volta sola E poi Questo lo dico Un po' Anche per esperienza Personale Grande Saul Werner Ah ecco Scusate ragazzi Non lo dico mai Iscrivetevi Abbonatevi Al Al canale Con Prime Che è gratuito Se vi abbonate Al canale Con Prime È gratis Vi prego Abbonatevi Vi prego Abbonatevi Ma che cazzo Me ne frega Potete anche non abbonati Non me ne frega Un cazzo Tanto non mi arriva mai Una lira Grazie al cielo Col mio lavoro Sto bene così E quindi I film Manco me li devo comprare Per cui Sono a posto Non mi interessa Però se vi abbonate Oh ecco Infatti Vedi Saul Werner Si è abbonato Per tre mesi Così per tre mesi Non ci deve pensare I monti ce l'hanno con me Senza un perché Adesso ce l'avranno Ancora di più Con te Caro Alessio Perché sei amico Di Gons E anch'io C'ho i miei nemici Ma siccome io sono Molto cattivo E forse anche tu lo sei Devono solo venire A Insomma Da noi E risolviamo la faccenda Va bene A parte gli scherzi Ora vi spiego perché Ho chiuso Nergazmo Se avete domande Fatemene nel frattempo Come sapete Insomma Alcuni lo sanno Altri no Io avevo un sito Avevo O tuttora Che sta per chiudere Chiudere il 25 ottobre Mi sembra Un sito internet Che si chiama Nergazmo.it Non ci andate Non iscrivetevi Non seguite Perché tanto Lo sto chiudendo Perché lo sto chiudendo Non perché Vada male O per altre ragioni In particolare Ma semplicemente Perché non riesco A seguirlo L'ho aperto Perché Comunque non aprite Questo blog Lo avevo appena aperto Ora Non aprite questo blog Ragazzi Mi richiede Veramente tantissime energie Fare recensioni Mi arrivano Fin da recensire Mi arrivano anche Anche dove Non mi viene Fatto diciamo L'omaggio del film Io però cerco Di essere D'aiuto anche No magari A registi Che mi hanno Scritto Che mi hanno detto Mi puoi recensire Il film Quindi Per me È una lusinga Incredibile Perché significa Che ti interessa Insomma Pensi che io sia In qualche modo Influente E questo mi fa piacere In più Io penso In qualche modo Anche in una piccolissima parte Di poter essere Influente E convincere qualcuno A vedere il tuo film E quindi Credo che Sia utile Che io faccia La recensione Quindi faccio Recensioni di qua Recensioni di là Unboxing di qua Live di su Live di giù Gestisci qui Gestisci là Io dietro Nel gasmo Non ci riesco a stare Anche se Pure lì Appunto Ricevo Inviti Anteprime Filme Giochi Eccetera Però diciamo Che la mia passione Primaria Infatti Il canale Strici nel gasmo È diventato Il gonz fa cose Esatto Bravo E anche L'instagram È diventato Il gonz fa cose Ora vi spiego Perché Non riesco a fare Le recensioni Di tutte Ste cose qua Ma Mi tengo aperta La possibilità Di poter trattare Argomenti Al di fuori Dell'horror Come Individuo Personale Quindi non come Progetto Nel gasmo Ma come Gonz Quindi La pagina Instagram E il canale Twitch Sono stati Praticamente Rinominati A nome mio Perché comunque Il progetto Il progetto Era mio Non è che Ci sono mai stati I grandi volti Che abbiano Diciamo Influito Quindi Aveva anche senso Che me li tenessi Non li seguirò Con grande costanza Ve lo dico già Se volete Seguirli Li seguite Però Se dovessi fare Mai un gameplay Di qualcosa Che non è horror Una recensione Di un film Che non è horror Troverete sicuramente L'aggiornamento Su questi canali Questi profili Detto ciò Io Sono stato accolto Nella redazione Di just nerd In maniera Molto saltuaria Nel senso Che loro sono Molto contenti Di avere i miei Vecchi articoli E gliele ho passati Sono contenti Di avermi come Firma Tra virgolette Già Adesso ho esagerato Non dire che Sono una firma Ho cagato proprio fuori Diciamo Sono felici Di avermi come editor Quindi Quando potrò Parlerò Quando potrò Parlare di film Che non sono horror Lo farò su just nerd E eventualmente Su altri siti Ma comunque Tutte le mie energie Verranno Incanalate Quasi Descusi Ente Su non Aprete questo blog Ci sono tantissimi film A cui sono stato invitato In antiprima stampa Tantissimi no Però In sto periodo Si parla di due o tre film E li ho Bypassati tutti Cioè Non ho risposto Come presenza Uno perché comunque Non so ancora bene Su quali siti Scriverò la recensione Due perché comunque Non voglio Più togliere Energia Al canale Non aperto Questo blog Quindi Mi tengo aperta La possibilità Ma D'ora in poi Gestirò Solo ed esclusivamente Non aperto Questo blog Poi Qualche volta Potrebbe esserci Una recensione Particolare Di un film Che non è horror Su altre Situazioni Diciamo Questa è un po' Tutta la spiegazione Del perché Ho chiuso un orgasmo E Che cazzo vi devo dire Ragazzi Sono Sono contento Di questa decisione Perché Veramente Siamo in un periodo Che è appunto Troppe Troppe cose Per la testa Io comunque Come vedete Qua sono a casa mia Non è che io Di lavoro Faccio Questo Di lavoro Io vado a lavorare Di lavoro Io vado a lavorare Suona Suona un po' Polemico Però Qua sono in camera mia Sto approfittando Che la mia famiglia Non c'è Mio figlio Non c'è Insomma Provate Provate Per un secondo A mettervi Nei miei panni Capite che Non ho il tempo Per fare le cose Quindi Questo è il motivo Per cui ho chiuso Un orgasmo Vi Vi ringrazio Se avete seguito Anche di là Ma adesso Ci concentriamo Solo ed esclusivamente Sono aprito questo blog Grazie al cielo Ci sono anche persone Come ore di orrore Che mi sostengono Voi che mi sostenete I fedelissimi Che qua Oggi ce n'è tanti Che scrivono Che sono sempre qua E che si iscrivono E si abbonano al canale Per tre mesi Siete i numeri uno Se volete Potete anche entrare Nel gruppo telegram Di cui Vi passo adesso Il link E lì Praticamente Chatto Come se non ci fosse Un domani Rispondo a domande Eccetera Vi ho messo il link Del gruppo telegram Allora Questo è il link Del canale Sul canale Ricevete solo i feed Delle cose che faccio Quindi solo Se pubblico una recensione Se faccio un video Se cliccate Unisciti Andate nel canale Ci sono io Ci sono tutti gli altri E lì proprio Si può parlare di tutto Tutti sono liberi Di parlare di tutto Con delle piccole regole Tipiche Dei gruppi telegram Insomma Niente di Eclatante Che altro vi devo dire Basta Adesso io Vado a farmi Allora Sì sì Vi dico due cose Due cose Ho avuto la fortuna Di vedere in anteprima Un film Davvero Eccezionale Che si chiama Nightmare Symphony E' un film Di Domiziano Cristofaro Con la collaborazione Di Daniele Trani Mi sembra Daniele Trani O non mi ricordo Se Daniele o Davide Comunque il signor Trani Che è un direttore La fotografia La prima esperienza Da insomma Aiuto regista Diciamo Il film comunque Si è di Domiziano Cristofaro Chi segue un po' Il mondo indipendente Del cinema horror Estremo Sa chi è Domiziano Cristofaro Io per esempio So chi è Ma purtroppo Non ho una grande cultura Sui suoi film Ma me la farò Mi farò una cultura Su Domiziano Cristofaro Ho visto questo film Ho scritto la recensione Domani esce sul sito Si chiama Nightmare Symphony Ed è un grandissimo omaggio A Lucio Fulci Fammi togliere Ecco così Così è bruttissimo Così Così è troppa Così è spenta Sono già iscritto Il gruppo Telegram Grande Ovviamente Hai un nick diverso Quindi non ti riconosco Poi mi dici chi sei Nightmare Symphony Insomma Sapete che È un film Che è insomma Ispirato Ispirato Al film Un gatto nel cervello Che in inglese Si chiama Nightmare Concert Quindi Insomma È veramente Un'operazione incredibile Leggetevi la recensione Domani Tanto è senza spoiler È una recensione Abbastanza molto light Così Daniele Gerini Grande Grande Deve essere figo Domani lo leggerò Chissà come va il Milan Perché so che Thomas Con un orecchio Ascolta me Con un orecchio Ascolta Le papere del Milan Spero che perda Pensate che Thomas Riesce anche a volermi bene Anche se io denigro il suo Milan Comunque Questa era Era una delle robe Che volevo dirvi Quindi domani Recensione di Nightmare Symphony Condividete i miei articoli Per favore Leggeteli soprattutto E scrivetemi soprattutto Cosa ne pensate Seconda cosa importante E poi chiudo Ora Stanco come Come poche persone Nella vita Vado giù Nella mia piccola Cantina degli orrori E Faccio il video Aggiornamento Della collezione Perché se aspetto Ancora Un po' Cioè insomma Passa troppo tempo Non so quando lo rifarò Quindi Videogiornamento Della collezione Quando uscirà Mi raccomando Andate Commentate i video Eccetera E datemi una mano Anche se poi appunto Come vi ho detto All'inizio Inizio a fregarmene Veramente tanto Di Di quante views Fanno le cose Sinceramente Non me ne fotte un cazzo Se siete qua Per esempio Adesso siamo Una decina Siete qua Dieci persone Per me è veramente Un numero Dignitosissimo Per fare Una piccola Un piccolo gruppo Di Di ascolto In cui si parla Si interscambia Eccetera Quindi Chi se ne fotte Quante views fa Poi se la gente vuole Avere a che fare Con me Collaborare con me Lo farà Indipendentemente Da Quante views Può avere Un video O un altro Iron Fist Addirittura C'è un simone Grandi Grandi tutti Ragazzi Che vuol dire Salutiamoci Salutatemi Mentre io Stacco E Alzo un po' La musica Che fa un po' Da sigla finale Sempre Esa Il mio amico E il presidente Che è l'unica musica Diciamo che non mi Non mi bannano Non mi bannano mai Si è spenta la musica Io volevo mettergli la musica Ragazzi Grazie Grazie Hai fatto gli auguri a Esa Ma si chiede la verità No Cazzo E ho Mi sono dimenticato Grande Sal Sal Verner Grande Grazie per l'abbonamento You are the best In the world Vi piace la mia pronuncia Dai Ce la farò Fare il video Aggiornamento Della collezione Tra l'altro Mi sono documentato Un cazzo Sui film Magari viene male Magari non lo faccio Magari Mi metto Stasera Mi metto E faccio Perché Sui film Che non ho visto Preferisco Eh no Però sai che cos'è Io lo faccio Perché devo fare anche la recensione No Se no tiro troppo in là Va bene ragazzi Salutami Pilipino Saluterò Pilipino Saluterò Magari la prossima volta c'è Non lo so Ragazzi Grazie di cuore Di essere stati qua Ci vediamo alla prossima Grazie a tutti ah non vi ho fatto vedere questo me l'ha mandato bd edizione per fare una recensione figato bellissimo questo qua giungi ito io non è che sono un esperto però vi posso dire che è un famosissimo fumettista giapponese di di storia di paura faccio vedere un'immagine di paura volete vedere un'immagine di paura però non vi dovete cagare sotto io ve la faccio vedere ma se vi cagate sotto poi sono cazzi vostre madonna che figo questo me lo sto spoilerando praticamente per far vedere in me belle mummie cose così guardate queste mummie guardate queste mummie madonna guarda questa eh figo figo questo stile qua arriverà la recensione anche di questo video così quattro gatti la potranno vedere ciao ragazzi grazie grazie vorrei stare con voi all'infinito ma vado a fare il video devo fare la recensione ve lo dico dai vi spoiler devo fare la recensione di spider baby che è un film stupendo un film stupendo ragazzi spider baby è un film stupendo mi sono innamorato di quel film e poi faccio l'aggiornamento della collezione dai dai provo provo se viene male lo rifaccio passo dopo passo ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao